Sì, Fabio, noi siamo in diretta dal Senato perché sta succedendo qualcosa. L'Assemblea del Partito Democratico si sta confrontando sul disegno di legge costituzionale presentato dal Governo. Il capogruppo Zanda ha tenuto a precisare che quattro punti non devono essere modificati, i senatori devono essere inelegibili, non devono ricevere alcuna indennità aggiuntiva, devono e non devono votare né sul bilancio e né la fiducia al Governo. I 22, chiamiamoli tra virgolette dissidenti, che hanno presentato un disegno di legge alternativo, firmato da Chiti e Tocci, ma anche altri senatori, hanno dato invece, sembrano essere intenzionati a continuare la novità politica e che ci potrebbe essere una convergenza su quel disegno di legge da parte del Movimento 5 Stelle. Lo ha dichiarato il vostro capogruppo, Vincenzo Sant'Angelo, Nicola Mora del Movimento 5 Stelle. Chiedo, conferma, se ci può essere una convergenza su un disegno di legge che prevede al primo punto l'elegibilità di 106 da tutti? Certo che sì, perché noi siamo a favore di strumenti che conservino al popolo la sovranità, per cui ci sembra assolutamente irrituale e non democratico consentire camere di secondo, terzo, quattordicesimo livello. Noi pensiamo che il bicameralismo abbia comunque dei vantaggi, soprattutto quando perfetto lo stesso Renzi ha goduto di questa doppia lettura, per esempio per correggere il tiro sul famoso emendamento Chiavaroli che penalizzava gli enti locali che disincentivavano l'apertura di slot machine. In quel caso lui ha usufruito della doppia lettura e quindi di uno dei meccanismi del bicameralismo perfetto. Adesso ci sembra insomma contraddittorio che dopo averne usato adesso lo cancelli. A proposito di contraddizioni, in campagna elettorale Beppe Grillo si era sempre battuto contro gli sprechi, adesso il Movimento 5 Stelle ritiene che il bicameralismo perfetto sia necessario. Noi sosteniamo che gli sprechi si possano ridurre, per esempio, dimezzando il numero dei parlamentari di ambedue le Camere, dimezzando le indennità che vengono conferite a tutti i parlamentari, anche perché se poi dimezziamo le indennità di chi va a Roma, inevitabilmente dovremmo ritoccare pesantemente le indennità che vengono corrisposte, per esempio in tutti i consigli regionali. E allora in questo modo si otterrebbe veramente una drassia a riduzione dei costi della politica. Loro hanno paura di tutto ciò, per questo cercano di camuffare la realtà, di scaricare su una sola camera, che fra l'altro, mi lasci dire, funzionerebbe assai poco, perché per una settimana al mese, per qualche giorno al mese, lei si immagina sindaci di grandi città che hanno già problemi ad affrontare il quotidiano a Milano, a Napoli, a Palermo, dover poi essere proiettati in un'altra dimensione ancora. Noi siamo dell'avviso che si fa una cosa per volta e la si fa bene, invece qua evidentemente penso anche che tutto possa essere cumulabile. Per quanto riguarda NotTav, voi non vi battete contro la Tav in generale, ma contro questa Tav, diciamo, il simbolo che Morra espone è perché oggi in aula si vota su un provvedimento importante. Sì, di fatto noi, ratificando questo accordo internazionale con la Francia, bypasseremo la legislazione antimafia, per cui consentiremo che tutti gli appalti, che tutti i lavori vengano fatti in deroga alla normativa che nel tempo abbiamo elaborato per permettere che i lavori pubblici non fossero prebenda, non fossero mercimonio per le aziende in odore di mafia. E sappiamo tutti che soprattutto in questo campo, mafia, andranghe e tacamorra hanno investito pesantemente. Che cosa facciamo, anzi che cosa fanno i loro signori? Derogano sulla normativa vigente per concedere evidentemente a ditte e loro amiche lavori che non debbono essere fatti. Per tornare sulle riforme ringraziamo Morra, il Parlamento e naturalmente il Partito Democratico. Matteo Renzi dovrà in qualche modo domare i dissensi interni che ci sono nel PD, come ieri ha domato l'ultimatum di Brunetta, poi anche con le parole di Sibio Berlusconi, che ha detto Forza Italia rimane fedele al patto del Nazareno, si andrà avanti sulle riforme. Vedremo se ci sarà qualche modifica al Senato, sulla riforma del Senato e soprattutto quale sarà il margine di trattativa che il Governo concederà alla propria maggioranza. Per il momento se non ho altre domande, Fabio Ligna può tornare a te.